Dramma questa mattina all'ospedale Rummo di Benevento, dove un 51enne si è lanciato dalla finestra al secondo piano del reparto di malattie infettive, dove era ricoverato da alcuni giorni a causa di una febbre alta. La vittima è un pensionato della città che prima della fine dell'anno era stato ricoverato nel reparto di psichiatria, poi, proprio a causa della febbre, era stato trasferito a malattie infettive. Il 51enne non aveva parenti e per questo, solitamente, era seguito dagli operatori di una casa famiglia. Il dramma si è materializzato intorno alle 9, quando l'uomo ha aperto la finestra della sua stanza e si è lanciato nel vuoto. Immediati i soccorsi da parte di medici ed infermieri al momento della tragedia. Tutto inutile, purtroppo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della volante e della polizia scientifica, che hanno effettuato i rilievi disposti dal sostituto procuratore Marilia Capitanio, che ha effettuato il sopralluogo con il medico legale, la dottoressa Monica Fonzo. La salma è stata poi trasferita presso la sala mortuaria del nosocomio, in attesa della visita esterna ed eventuali altri accertamenti medico-legali, che il magistrato potrebbe disporre.